Buon pomeriggio, benvenuti e benvenute alla prima edizione del Tg6. In primo piano la cronaca, il questore di Pescara Luigi Liguori ha emesso 14 provvedimenti di di vieto di accesso ai locali pubblici e zone limitrofe ad altrettanti giovani coinvolti lo scorso 31 ottobre in una maxirissa davanti a un locale della città. I dettagli nel servizio di Stefano Recanati. 14 provvedimenti di Daspo Willy della durata di un anno hanno interessato ragazzi tra i 18 e i 21 anni di nazionalità italiana e straniera. La rissa di Halloween, così rinominata dal questore Luigi Liguori, è scoppiata lo scorso 31 ottobre all'interno di un locale della zona centro-nord della città di Pescara. Per poi consumarsi all'esterno. I ragazzi, identificati grazie alle attività di indagine della squadra mobile, ora non potranno per la durata del provvedimento entrare nel locale dove c'è stata la rissa, in quelli analoghi, né partecipare alla movida cittadina. Il fenomeno delle liti però non riguarda solo maggiorenni. Infatti dall'autunno scorso questi sono fatti piuttosto consueti, soprattutto nel territorio tra le città di Montesilvano e Pescara. È un fenomeno che al momento non è preoccupante ma desta attenzione, perché abbiamo avuto diverse risse nel capoluogo, risse che in questo caso hanno dato origine a questi 14 d'aspo. Si trattava di un locale pubblico dove è iniziata questa rissa e poi è stata proseguita all'esterno del locale. Abbiamo colto l'occasione per parlare di questo fenomeno, delle liti a volte o poi alla fine scaturiscono in vere e proprie risse tra soggetti che in questo caso riguardano ragazzi di 14-15 anni che aggrediscono per futili motivi altri ragazzi, spesso che provengono dalla provincia oppure che provengono da altre province. Soprattutto per i minorenni le liti si consumano nelle ore pomeridiane. Per questo la Polizia ha intensificato il servizio di prevenzione e di controllo su ragazzi che nel weekend affollano la città. Questi ragazzi, considerata la giovanissima età, escono intorno alle 16 del pomeriggio per far rientro entro le 22 e proprio queste risse avvengono nel tardo pomeriggio. Quindi le famiglie devono avere un livello di attenzione perché anche in queste fasce orarie possono essere coinvolti in episodi del genere e quindi ci deve essere un'attenzione reciproca sia delle famiglie che delle istituzioni al fenomeno. Infine, un monito da parte del questore anche ai gestori dei locali. La somministrazione di bevande alcoliche ai minorenni è vietata e quindi tutti i locali, tranne pochissime eccezioni, rispettano il divieto. A volte qualche utente cerca la somministrazione camuffata tramite sostanze alcoliche all'interno di bevande analcoliche, ma l'attenzione è alta e la stragrande maggioranza dei gestori rispettano le normative. Bisogna stabilizzare il personale precario e riorganizzare il sistema sanitario regionale. Questa è la posizione della UIL a margine del tavolo con la regione Abruzzo, a cui hanno partecipato anche CGL e CISL. Dalla regione Abruzzo sulla sanità solo buoni propositi. E' il commento del segretario della UIL a Bruzzo Lombardo, a margine del tavolo chiesto dai sindacati. Tra le questioni rimaste risolte è la stabilizzazione del personale sanitario precario. Medici e infermieri sono pochi estremati. Lo avevano gridato anche gli operatori scesi in piazza ieri col Nursind. E questo è il tallone d'Achille del sistema ospedaliero abruzzese, anche nella lotta contro il Covid. Noi avevamo posto una serie di problematiche che ci sono, secondo noi, rispetto alla sanità pubblica regionale. In primis la stabilizzazione dei precari, che è uno dei temi centrali. Uomini e donne che hanno dato un contributo notevole durante il periodo di questa pandemia e che ancora oggi non vedono riconosciuto questo sforzo enorme che hanno portato il loro contributo straordinario nei nostri nosocomi regionali, nella nostra attività sanitaria di prevenzione di questa maledetta pandemia. Noi crediamo che sia arrivato il momento che il riconoscimento di una stabilizzazione dei precari nelle quattro ASL della nostra regione diventi prioritario. Purtroppo nell'incontro, al di là dei buoni propositi, non siamo andati. Insoddisfatti della riorganizzazione della rete ospedaliera, i sindacati chiedono di potenziare la medicina territoriale, tenendo conto delle esigenze delle diverse aree d'Abruzzo. Noi continuiamo a sostenere che una riorganizzazione del nostro sistema sanitario regionale diventa fondamentale per consentire di dare una sanità territoriale in grado di rispondere innanzitutto alle esigenze della cittadinanza e della popolazione abruzzese in una regione orograficamente particolare che deve essere tenuta presente perché è fondamentale per poter dare quelle risposte soprattutto a quella popolazione che vive in condizioni geografiche particolari, penso a tutto l'Abruzzo interno e che deve avere parimenti agli altri abruzzesi una sanità degna di questo nome. I sindacati poi hanno chiesto un tavolo anche a proposito dell'automotive che si è svolto con l'assessore regionale allo sviluppo economico da Mario. Bisogna sedersi a discutere anche di infrastrutture e mercato del lavoro, tuonano le organizzazioni dei rappresentanti dei lavoratori. Ad Avezzano protesta di un gruppo di mamme e di bambini che frequentano le scuole primarie della città, le quali hanno scritto all'amministrazione comunale chiedendo un sostegno per i tamponi che vengono effettuati per l'attività di tracciamento. Perché i tamponi sono gratuiti soltanto per gli studenti delle scuole medie e superiori? È quanto chiedono i genitori dei più piccoli, i bambini che frequentano l'asilo e le elementari. La misura continua a far discutere anche in Abruzzo, dove un gruppo di genitori di Avezzano ha inviato nei giorni scorsi una lettera all'amministrazione comunale per chiedere un intervento urgente a sostegno delle famiglie. Un'azione sulla falsa riga di quanto già accade in diversi comuni e regioni, che stanno contribuendo ai costi che le famiglie stesse stanno affrontando, loro malgrado, per fronteggiare l'emergenza pandemica in un clima di grande confusione, dicono, e instabilità non solo economica ma anche sociale. Le criticità maggiori sono che cerchiamo, vogliamo sapere sia dalla scuola che dal comune dove finisce la responsabilità di uno e dove comincia la responsabilità dell'altro. Stiamo vivendo un periodo dove non si capisce nulla, DAD, DDI, DID, connessioni, assenze di connessioni. Non abbiamo un filo logico delle cose che stanno succedendo. La criticità principale resta quella del costo dei tamponi, calmierato per gli over 12, ma non per i più piccoli. Non riusciamo a capire perché i ragazzi al di sopra dei 12 anni pagano il tampone 8 euro e invece i bambini delle elementari che al momento sono i più colpiti debbano pagare i tamponi 15 euro. Io ho tre figli, la spesa è tanta, è elevata. Mettiamo anche che ne dobbiamo fare due perché T0 e T5 partono così, 30 euro col giro di 5 giorni. Si moltiplica per i tre figli, diventa una spesa improponibile. Quei costi sicuramente sono elevati. Quello che avete chiesto voi è un interessamento urgente da parte dell'amministrazione che ha sostanzialmente risposto che verranno attivati degli screening. Sì, verranno attivati degli screening. Mi auguro che vengano attivati il più presto possibile. Speriamo che questi screening partano da subito in tutte le scuole. Certo è che tutti i presidi di tutte le scuole di Avezzano si dovranno poi allineare a quelle che sono queste disposizioni comunali. Quindi bisogna fare gli screening. Tutti i presidi si devono allineare allo screening. Escara oggi ha ricordato il magistrato Emilio Alessandrini, padre dell'ex sindaco del capoluogo adriatico Marco. Il magistrato è stato ucciso 43 anni fa in un attentato rivendicato da prima linea. Riesce sempre molto difficile rispondere a quella domanda fatidica perché? Perché negli anni 70 purtroppo in quella follia ideologica di intossicazione, di violenza l'uomo veniva in un certo senso degradato del suo essere tale e diveniva un simbolo. Come lo è stato Emilio che il suo malgrado è stato prima a bersaglio poi è divenuto con gli anni il prototipo di quella categoria dell'eroe borghese che io penso lui sorriderebbe di fronte alla quale. Così Marco Alessandrini intervenuto alla cerimonia istituzionale in ricordo del papà e magistrato Emilio Alessandrini ucciso barbaramente 43 anni fa da un commando terroristico di prima linea Milano. Il sostituto procuratore aveva 39 anni e nel corso della sua carriera si era occupato delle inchieste più scottanti. Quelle sul terrorismo di sinistra, sugli scandali finanziari legati al Banco Ambrosiano, sui servizi segreti deviati e quella sull'attentato alla sede milanese della Banca Nazionale dell'Agricoltura di Piazza Fontana. Oggi continua l'eco di quella stagione ed ieri era la notizia della scomparsa di Corrado Alundi molti non sanno chi è Corrado Alundi era un terrorista nel cui covo nel settembre del 78 venne trovata una foto in formato tessera di mio padre qualche giorno fa, qualche settimana fa uno dei due che materialmente hanno assassinato Emilio ha pubblicato un appendice ad un suo libro e io penso che non abbiamo bisogno di cattivi maestri non abbiamo bisogno di zietti birichini che ci raccontano in maniera distorta una stagione come se fosse all'insegno di un sogno rivoluzionario perché c'è quella linea molto chiara che è quella della democrazia, delle regole del nostro stare insieme con il rifiuto netto senza sé e senza mai di qualunque forma di violenza. E' tornato agibile il primo lotto dei padiglioni monumentali del cimitero di Cartecchio a Teramo i lavori sono costati 850 mila euro quasi tutti coperti dalla protezione civile e stamani la riapertura alla presenza del sindaco D'Alberto e del vice Cavallari Questo non è solo un risultato straordinario è un obiettivo di mandato che avevamo raggiunto la riapertura dei padiglioni e anche e soprattutto, ed è questo il segno più bello l'obiettivo di restituire ai nostri cittadini che per tanti anni non hanno potuto visitare i loro cari non hanno potuto vivere questo momento questo luogo di rispetto, di dolore ma anche di consolazione oggi riapriamo soprattutto il cimitero ma riapriamo la possibilità gli spazi del nostro cimitero ma la possibilità veramente di stare vicini ai propri cari e questa è la cosa più bella poter dare una risposta anche alle tante lacrime le tante richieste che abbiamo avuto nel corso di questi anni oggi non è più chiuso oggi è aperto è aperto quindi al momento della consolazione e del rispetto e poi c'è l'altro tema che è molto importante come ricordava lei non esistono al momento fondi per la ricostruzione dei cimiteri o comunque sono messi in coda rispetto ad altri interventi quindi il rischio che correvamo era proprio questo di tenere questi spazi chiusi sine die ci siamo inventati di fatto attraverso la collaborazione con la protezione civile e il commissario per la ricostruzione un percorso amministrativo che ci ha consentito di una riapertura che è di fatto una pre-ricostruzione quindi anticipando la ricostruzione dei cimiteri degli spazi più degli alcuni spazi del nostro cimitero urbano che finalmente appunto torna ad aprirsi alla collettività a febbraio 2020 mi sono insediato nel mese di marzo aprile insieme al sindaco incontrammo l'allora ingegner Borrelli capo della protezione civile e da lì iniziò l'attività anche di sopralluoghi con i propri funzionari per verificare la possibilità di poter finanziare un'operazione di questo tipo abbiamo saputo gestire questa operazione certo dal 2016 l'abbiamo recuperata nel 2020 adesso l'abbiamo restituita alla città come un impegno che ci avevamo presi perché era un'attività prioritaria poter restituire ai nostri concittadini la possibilità di andare a fare visita ai propri cari andiamo a Chieti dove è previsto il recupero delle aree verdi della città grazie alla collaborazione dei cittadini una decisione dicono dall'amministrazione comunale del capoluogo teatino che sostiene la socialità e il decoro urbano vediamo il servizio dopo il sì dell'aggiunta all'adozione di aree verdi pubbliche oggi è stato reso noto il regolamento il bando pubblico consentirà ai cittadini alle associazioni, alle realtà economiche commerciali e imprenditoriali di adottare le aree e svolgervi anche delle attività a vantaggio della comunità i comparti destinatari di questi interventi saranno aiuole e aree destinate al verde pubblico fioriere e aiuole mobili oltre a rotatorie e sparti traffico chiaramente l'obiettivo cardine è quello di favorire la compartecipazione la cittadinanza attiva e nell'ottica che il patrimonio verde è patrimonio comune e chiaramente anche per un comune come il nostro che ha un lascito di patrimonio arboreo e del verde alquanto insomma disastrato porta benefici anche in termini di riscontro economico e quindi di abbattimento di costi dal primo momento del nostro insediamento abbiamo sempre detto che uno dei punti focali del futuro della nostra città era il lavoro sul decoro urbano in questo i cittadini ci hanno ascoltati e sostenuti e soprattutto spesso ci hanno chiesto come poterci dare una mano oggi con l'adozione del regolamento e domani con l'espletamento delle pratiche burocratiche quindi con gli avvisi e con tutto quello che poi gli uffici dovranno fare per appunto consentire l'adozione di questi spazi verdi noi avviamo un nuovo percorso di sinergia tra la città e l'istituzione e ora la pagina dello sport che apriamo parlando di calcio di Serie C sono tante le assenze per il Pescara in vista della gara di domani a Viterbo alle 14.30 fuori causa ai tre tesserati alle prese col Covid ovvero Frascatore, Derisio e Cancellotti gli infortunati Drudi e Chiarella e giocatori coinvolti nelle dinamiche di mercato De Marchi e Bozic che sono in odore di cessione entro lunedì 18 i convocati di Auteriche da grande importanza alla gara di domani facciamo il punto con Andrea Costantini Settimana non facile in Casa Pescara ai fastidi inevitabili legati al mercato si è aggiunto il Covid che ha condizionato il lavoro della squadra tre giocatori in vista della gara di domani saranno assenti Derisio, Frascatore e Cancellotti a loro si aggiungono gli infortunati Drudi e Chiarella e due calciatori interessati da dinamiche di mercato che potranno portare a una loro cessione nelle ultime ore della sessione di gennaio Bozic e De Marchi il resoconto di questi giorni del tecnico Auteri allenamenti insieme con la palla non ne abbiamo potuti fare tanti però negli ultimi giorni fortunatamente tutto si è indirizzato per il verso giusto vabbè sapete di tre giocatori positivi insomma siamo stati un po' in isolamento però abbiamo comunque lavorato ugualmente sono queste normative che sono un po' strane perché comunque sono tutti giocatori senza sintomi con terza dose di vaccino e vabbè Gliaraldi è un giocatore pronto perché ha giocato fino a dieci giorni fa perché è un giocatore che si è allenato è chiaro che lo dobbiamo inserire nel nostro contesto di gioco Davanti a Sorrentino dovrebbe rientrare Ianes dopo la scolifica e che sembra favorito sull'ultimo arrivato Gerardi Ingrosso e Veroli completeranno il trio di difesa Zappella e Rasi gli esterni in mezzo torna Pompetti con Diambo che appare favorito su Memuschai in avanti la conferma del trio Rauti, Ferrari e Dursi nonostante le assenze niente alibi per Auteri che dà grande importanza al match con la Viterbese è una gara fondamentale una delle poche volte che parlo così perché può essere una grande svolta per la stagione per fare questo dovremmo giocare una partita strepitosa dal punto di vista dei ritmi dell'intensità e della lucidità mentale Intanto i giocatori che ha preso sono tutti giocatori allenati e di ottimo livello certamente alcuni giocheranno tanti li conosco adesso la Viterbese è una squadra consistente secondo me lo era anche prima poi probabilmente non sempre le prestazioni sono state all'altezza ma domani è una partita importante perché affrontiamo un avversario che è destinato a non rimanere in fondo alla classifica Tanti gli innesti di mercato per i laziali l'ultimo il difensore Polito dal Monterosi dove è andato il portiere Daga ceduto nelle ultime ore l'ex Biancazzurro Foglia al Pontedera nel 4-3-3 di Punzi terzo tecnico stagionale dopo Dalcanto e Raffaele ci sarà il debutto di Semenzato al posto dello squalificato Pavlev Megelaitis potrebbe soffiare il posto in mediana a uno tra Adopo e Iuliano davanti spazio a Bianchimano Volpicelli e Alberico probabile assente Murilo partire dalla panchina un altro nuovo Polidori noi dobbiamo essere bravi a non concedere come stiamo facendo nelle ultime settimane ed essere bravi a concretizzare di più quello che produciamo perché solo così avremo la forza di fare uno scattino in avanti anche noi veniamo da 4 risultati utili consecutivi 7 nelle ultime 8 e per una squadra che è ancora anche se in condivisione ultima e classifica sono dei numeri un po' particolari però dobbiamo essere bravi a vincere a provare a fare la partita ai tre punti perché questo ci darebbe la spinta in avanti per affrontare poi questo mese di febbraio che sarà così intenso tornando a Pescara con le uscite di Marilungo e Rizzo e Galano che flerta con il Bari ecco le aspettative di Auteri per le ultime ore prendere per prendere no all'interno di questo gruppo ci sono dei giocatori forti, consapevoli che possono pure avere un rendimento migliore rispetto a quello del giorno d'andata quindi io non forzo nulla ma qualcosa arriverà sicuramente andiamo in casa Teramo altro colpo di mercato per il diavolo che poco fa appena ufficializzato l'arrivo in prestito dal Pisa dell'esterno d'attacco Andrea Cisco il 23enne esterno offensivo è cresciuto calcisticamente nel Padova fino all'esordio giovanissimo in prima squadra vestendo anche le maglie di Albissola Pescara Novara e appunto Pisa con 10 presenze in B e 70 in C il neobiancorosso che ha scelto il numero 26 sta svolgendo in queste ore al Bonolis la rifinitura mattutina con i suoi nuovi compagni di squadra e sarà regolarmente a disposizione per la trasferta di Imola che il Teramo dovrebbe giocare non avendo a disposizione Mungo ormai in uscita tra poco la conferenza stampa di Federico Guidi e poi partenza direzione il Romeo Galli per la seconda trasferta consecutiva dopo il successo di Pesaro per il resto la formazione dovrebbe ricalcare grandi linee quella che ha espugnato il Benelli con la coppia difensiva Codromaz Pinto con la conferma di De Grazia nel ruolo interno e col tridente formato da Bernardotto Malotti e Rosso la conferma come detto arriverà tra poco da Guidi prima giornata di ritorno in Serie D rinviato il derby Castelnuovo Pineto si gioca regolarmente quello tra Chieti e Nereto impegni casalinghi per Notaresco e Vastese che vogliono dare continuità al loro buon rendimento vediamo prima giornata di ritorno in Serie D Orfano però di uno dei due derby abruzzesi in calendario salta infatti il match tra Castelnuovo e Pineto a causa di casi di positività nella squadra del Vomano e la seconda gara consecutiva ai box per il Castelnuovo che deve recuperare anche il match col Vasto Girardi era stato inizialmente ricalendarizzato per mercoledì prossimo 2 febbraio ma c'è stato un ulteriore rinvio in Casa Pineto nel frattempo con la riapertura del mercato si è consumato un divorzio eccellente va via l'attaccante Matteo Minnozzi tra i protagonisti della super rimonta dello scorso campionato in arrivo invece il 25enne centrocampista brasiliano Bruno Caprioli da un club della seconda divisione svedese si gioca regolarmente l'altro derby quello dello stadio Angelini tra Chieti e Nereto i Neroverdi contano di bissare quanto fatto la scorsa domenica onorare un ex sulla panchina avversaria da Giovanni Pagliari a Federico Delgrosso e poi prendersi i tre punti dopo aver rotto il tabù casalingo Chieti che dovrà fare a meno dello scorificato Verna e che punterà forte sulla coppia Fabrizio e Orlando in attesa di poter puntare anche sul neo arrivo Elwasni Nereto con un disperato bisogno di punti ha un girone intero dalla fine la squadra Vibratiana ha nove punti da recuperare dal terzo ultimo posto che vuol dire distacco permettendo play out e allora è necessaria una forte accelerazione in termini di punti anche se la squadra continua a dimostrare notevoli fragilità scontro diretto al Savini per il Notalesco che riceve il Fiuggi squadre separate da un solo punto con la compagine di Epifani che tenta il sorpasso ai danni di quella di Romondini la Zieli che cercano di mantenere una certa competitività dopo aver perso i pezzi più pregiati Notalesco che vuole concludere la settimana perfetta dopo le vittorie su Alto Casertano e nel recupero di Castelfidardo torna a disposizione Speranza mentre Pampano prova a strappare ad Esposito una maglia da titolare nel tridente completato da Maio e Valenti terza gara consecutiva l'Aragona per la Vastese che vuole prolungare il suo Magic Moment cinque vittorie nelle ultime sei gare e ingresso in zona playoff ospite un fan alla prima gara del 2022 dopo il rinvio del match col Porto d'Ascoli il tecnico Fulvio D'Aderio recupera dalla squalifica Ceccacci e Corticchia il primo potrebbe riprendere il posto di titolare mentre il secondo dovrebbe partire dalla panchina in avanti il probabile tridente Alessandro Alonzi Scafetta fanno che solo questa settimana smaltiti i casi di covid ha potuto lavorare a pieno regime mancherà per squalifica Cason era l'ultima notizia per questa prima edizione del TG6 servizi che avete visto sono disponibili sul nostro canale youtube e sul sito www.tv6.it il prossimo appuntamento con l'informazione è questa sera alle ore 19 grazie e buon pomeriggio Grazie